A Tezze sul Brenta domani mattina si svolge la 32esima giornata ecologica tutti pronti, armati di guanti e sacchetti e sperando nella clemenza del tempo a raccogliere i rifiuti abbandonati lungo il fiume Brenta. Un'iniziativa promossa dalle amministrazioni comunali di Tezze e Pozzo Leone con le rispettive proloque e la collaborazione dei vari gruppi e associazioni locali. Predisposti diversi gruppi per le varie frazioni con azioni mirate a ridare un po' di decoro laddove è stato negato dall'assenza totale di senso civico di alcuni e sarà anche un motivo di ritrovo di fare comunità con un pranzo al parco dell'amicizia.